ma non c'è neanche attenzione, parte, solo davanti al portiere ecco il tiro Minin Clary 6 a 0 Cappotto nella pista di Eze ottimo il pallone per Toledo spazio il Brasile la mette dentro arriva il goal di Minin Clary la sterzata di Toledo va centralmente per Bigoni ottimo la giocata Minin Clary dovante al portiere Simone Minin Clary siamo ancora arrivati 1-1 Giordani in area di rigore palladenta per Minin Clary Minin Clary pallone a cercare De Angelis De Angelis arriva però Minin Clary Minin Clary Simone Minin Clary è buono per Minin Clary Minin Clary Minin Clary Minin Clary 1-1 Minin Clary Minin Clary Minin Clary Minin Clary Minin Clary un altro gol è Pianese 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 in campo con Davia Gagliardi Pesoncini Pasquale Capone Mazzuoli Ancione Zaccaglioni Golfo Giuffardo Gio Marelli Gio Marelli De Bregala Pizzoese scende in campo con Sambo Giovanelli Giovanelli non scende Giovanelli con Giacchini Giovanelli parte subito al tiro ed è subito rete Giovanelli anche due minuti Simone Listeri è 1-0 A a a a a a Grazie a tutti. Grazie a tutti.